Salve amici bentornati nel canale ricette fai da te. È bello cucinare pesci oppure preparare dolci, conservare l'uovo in un vetro oppure mangiare le nostre pietanze in ceramica, conservarle in plastica oppure i nostri rifiuti. Poi abbiamo però sempre un sgradevole odore. Possiamo lavare, risciacquare con detersivi potenti ma l'odore rimane. Oggi vi rivelo un antico rimedio di famiglia, come eliminare gli odori sgradevoli dalle stoviglie. Vi ricordate quando abbiamo fatto il balsamo per capelli ai semi di lino, vi dissi di conservarlo? Adesso ci serviranno. Laviamo le nostre stoviglie e sciacquiamo. Mettiamo i nostri semi di lino, che di solito saremo andati a buttare, nelle stoviglie, in questo caso plastica. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. Aggiungiamo abbondante acqua nella stoviglia in questione. Mescoliamo tranquillamente con un cucchiaio da cucina. Lasciamo riposare una notte intera. Il giorno dopo la sostanza è piuttosto gelatinosa. Scoliamo i semi di lino. Ci serviranno ancora, se vogliamo. Sciacquiamo. Questo metodo possiamo usarlo anche sul bucato, in lavatrice o a mano. Magari in un prossimo video vi farò vedere come. Ed ora provate ad odorare la vostra scodella. Nessun tipo di odore più. Garantito. Questo potete farlo anche su vetro, ceramica, posate, ovunque. Ed biancheria, come ho detto prima. Se non avete i rifiuti potete usare anche un mezzo cucchiaino di semi di lino fresco. E usare lo stesso procedimento del video. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!